ciao amici bentrovati sul mio canale youtube voi pensavate che io mi fossi dimenticata di quella scatoletta magica con quelle calze bianche nel pacco della volta scorsa vero e invece no le ho tenute da parte per dedicare a questo meraviglioso articolo un video tutto per loro ed eccoci qui la scatoletta era questa quindi una scatoletta in plastica ho scritto bant bant una marca meravigliosa a me tanto cara perché ha degli articoli stupendi di un nylon veramente elegante e di alta qualità andiamo a vedere che cosa c'è in questa scatoletta meravigliosa ci sono delle auto reggenti favolose con una balza a mo di giarrettiera completamente interamente in pizzo guardate bene se siete attenti notate anche che ci sono delle macchie di ingiallimento è molto molto facile trovare nel colore bianco ma anche nei colori grigi delle macchie di ingiallimento che non sono altro che delle macchie del tempo quindi è normale e fanno parte della meraviglia di queste calze oramai da collezione introvabili guardate che meraviglia questo nylon che trasparenza e che lucentezza hanno la punta leggermente rinforzata sono di una flessibilità incredibile da un articolo meraviglioso che non può mancare neanche nella vostra ricollezione quindi se volete acquistarle trovate tutti i link in descrizione se vi è piaciuto il video ma soprattutto le calze mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale youtube vi ricordo che tutti questi meravigliosi articoli vintage li potete acquistare nella mia collezione privata trovate tutti i link in descrizione vi abbraccio la vostra sabrina fashionist ciao ciao